Creative è il nuovo progetto firmato Radici e Cultura, laboratori ludico-didattici ma anche attività che mirano al benessere della persona come l'arte terapia e la meditazione destinate anche ai più grandi oltre che ai bambini. Il progetto nasce da un'analisi attenta della situazione che stiamo vivendo. La DAD ha messo a dura prova gli studenti che hanno sofferto più di qualsiasi altri il distanziamento sociale. L'assenza di rapporti interpersonali, della condivisione, del contatto, le difficoltà nella didattica e nell'apprendimento tramite DAD sono solo alcune delle conseguenze della pandemia. Creative nasce come risposta alle esigenze di bambini e ragazzi di poter apprendere e vivere tutto quanto è stato perso durante i mesi di lockdown. I professionisti che fanno parte del progetto e ai quali sono affidate la programmazione delle attività sono due educatori e un'arte terapeuta. Oltre a quelle da calendario ci saranno anche attività extra di workshop musicali, la storia della musica e produzione di musica e di danza. Le attività verranno svolte nei comuni di Bello Sguardo, Corleto Monfort, Laurino e Castelcivita. Per richiedere informazioni è possibile scrivere alla mail radicicultura.gmail.com